Vincere 5-0 contro la Juventus. C'era una volta un Varese in grado di battere i campioni d'Italia in carica e non solo. Nello spazio di 100 giorni avevano sconfitto anche l'Inter e poi il Milan, qui all'Ossola, dove non perdono mai per tutta la stagione. Non poteva che succedere nel 1968, l'anno per eccellenza delle rivoluzioni. E il Varese, la sua rivoluzione, la fa qui sfidando e battendo i giganti del calcio italiano, con una data su tutte, il 4 febbraio 1968. Varese 5-0 Juventus. Quel giorno su questo stadio cadeva una leggera nive, quasi a restituire agli oltre 20.000 spettatori presenti un'immagine sfocata. Un po' come in quei film surreali di David Lynch, dove i sogni si mescolano con la realtà. È la stagione da sogno, 1967-1968. Settimi in campionato, mai più così in alto. E da neopromossi, perché il Varese è una squadra che arriva dalla Serie B. Il presidente Borghi, allora, deve rinforzare la squadra. Su tutti arriva Armando Picchi. Era stato il capitano in campo della grande Inter, Jelenia Reva, che aveva conquistato l'Europa. Libero in campo e libero nella mente. Poi arriva anche Mario Merighetti. Anche lui ha un passato nell'Inter e soprattutto un futuro nell'Inter, perché una volta smesso di giocare, per tantissimi anni dirigerà il settore giovanile nero-azzurro. Ironia della sorte. In quella prima grande vittoria del Varese di quell'anno, contro l'Inter, il gol partita lo segna proprio Merighetti. Era il 29 ottobre 1967. Contro c'è una squadra fortissima che praticamente ha vinto tutto. È l'Inter di Corso Mazzola su Arez, quella che secondo il credo laico di Stefano Accorsi nel film Radio Freccia di Liga Vue non ci sarebbe più stata. Cresci su Mazzola, Sogliano su Dominghini, Tamborini su Suarez, Maroso su Cappellini e Principesco, secondo la Peralpina. Picchi fa un partitone. È il primo atto, sfidare e battere i giganti. Varese-Inter finisce 1-0. Poi, per la legge di Masnago, cioè che qui non vince nessuno, ci passa il Milan di Rocco, che quel campionato poi alla fine lo vincerà. Si sfidano alla fine del girone di andata ed è prima in classifica, il Milan appunto, contro seconda, il Varese, che nel frattempo guarda praticamente tutti gli altri dall'alto della classifica. Qui all'Ossola vengono allestiti 1500 posti in più per quello che la Peralpina definisce la partita dell'anno. Nel frattempo però l'allenatore Arcari ha qualche dubbio che non lo fa dormire bene la notte. Due dei suoi giocatori più importanti, Riccardo Sogliano e Pietro Anastasi, che finalmente entra nella nostra storia, non stanno bene e rischiano di saltare da partitissima. Alla fine però ci sono, recuperano e giocano entrambi. I gol decisivi contro il Milan li segnano il primo, Riccardo Sogliano, e il secondo, Pietro Anastasi. Battuto anche il Milan di Rocco, che appunto quel campionato lo vincerà, ma soprattutto l'anno successivo vincerà anche la Coppa dei Campioni, battendo in finale il fortissimo Ajax di Jonker Uiff e di Rinus Michels. Era il Milan di Gianni Rivera e di Pierino Prati, di Lodetti, Sormani e Trapattoni, che dopo la partita dirà che quel Pietro Anastasi lì, venuto dal sud per conquistare il nord del pallone, è praticamente il miglior attaccante in circolazione. Beh, aveva ragione. Quindi il 4 febbraio del 1968 sono passati 100 giorni esatti dalla prima grande vittoria sull'Inter. Nel frattempo qui è caduto anche il Milan e adesso arriva la Juventus, che gioca con lo scudetto dei campioni in carica cucito sulle maglie bianconere. È l'Everest del calcio in città, ma è più così in alto. E come accade sulla montagna più alta del mondo, anche qui all'Ossola cade la neve. Arcari, negli spogliatoi, fa la formazione. Giocano da Pozzo, Sogliano, Borghi, Picchi, Cresci della Giovanna, Tamborini, Anastasi, Burlando, Vastola, Leonardi. Ed era da questa scaletta che i giocatori salivano, ritrovandosi immediatamente al centro del campo, un po' come dei gladiatori in un'arena. Si guardano intorno e vedono anche tanto bianconero, perché si sa, la Juve è tifata un po' ovunque in Italia, anche se alla fine di quella partita gli unici due colori che ci saranno saranno il bianco e il rosso. Masnago è un vulcano, un'immagine che fa da Ossimuro, con la neve che scende lentamente su questo campo. Anastasi, invece, lui è velocissimo, goleador su ogni pallone. È l'idolo assoluto del 5-0 alla Juventus, perché di gol lui ne fa tre alla sua Juventus. Un po' perché era cresciuto con l'idolo John Charles, e un po' perché poi alla Juve, pochi mesi dopo, andrà a giocarci, diventando a quel punto per sempre simbolo e rivincita di un'intera classe sociale, cioè di chi lasciava il meridione per salire a lavorare nelle fabbriche del nord Italia. Varese 5, Juventus 0. La città è ovviamente in festa. Chi ha assistito alla partita in questo stadio corre a casa, ancora incredulo, a raccontarlo a parenti e amici. Ma non tutti ancora lo sanno, perché la televisione è un mezzo relativamente nuovo, gli smartphone ovviamente non esistevano. È come se l'ufficialità, il sogno che diventa realtà, ci sarebbe stato solo una volta scritto nero su bianco sulle pagine della prealpina del lunedì. Intanto i giocatori hanno lasciato questo stadio e fanno ritorno al ritiro di Comerio. Incrociano delle persone che chiedono loro il risultato della partita, rispondendo di un 5-0 alla Juventus e sentendosi dire in tutta risposta che in fondo perdere 5-0 contro la Juventus era anche piuttosto normale. E invece no, avevano vinto loro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS